Salve a tutti ragazzi, in questo video vorrei fare la sintesi della partita del Napoli contro il Cirona. Allora una bellissima partita piena di emozioni sia dal Napoli che dal Cirona. Hanno fatto una bellissima partita e diciamo che ci hanno fatto divertire, specialmente la nostra squadra. Infatti al primo tempo segnano il Napoli con un autogol dovuto dall'autogol di David Lopez che al ventisettesimo fa andare in vantaggio il Napoli per 1 a 0. Poi finisce il primo tempo e nel corso del secondo tempo al cinquantaseesimo il Cirona pareggia. Poi ci sono stato un sacco di opportunità, infatti Osimène che ha sfiorato la traversa, guarda schede che hanno parato il tiro. Poi al settantasettesimo si si blocca un'altra volta la partita del Napoli con Betagna con un bellissimo tiro e mette a rete. Poi all'ottantesimo il Napoli ha un altro calcio di rigu e ci pensa Acquavarascheglia a portare il Napoli sul 3 a 1 e finisce la partita per il 3 a 1. Comunque il vostro è stata una bellissima partita piena di emozioni, bellissima, ci ha fatto divertire e bene che è un amichevo però io adesso li vedo abbastanza bene i giocatori, si devono solo affiatare perché adesso sono giocatori che sono nuovi e devono decidere che ruolo impostare, come impostare alla squadra. Comunque adesso vi saluto abbiamo fatto questa bellissima sintesi e sperando che Napoli vince sempre adesso vi saluto se vi è piaciuta questa sintesi mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale ciao a tutti e buon divertimento ciao forza Napoli